Ma che lo dica io è un po'... Anche questo penso che non susciti la curiosità degli italiani. Quello che farà Monti da grande, insomma, sarà un tema anche rilevante forse, ma quello che faranno da grandi i miei cinque nipoti, che probabilmente faranno i disoccupati, o che faranno i figli di milioni di persone che si interrogano, forse più interessanti, di cosa farà quelli che sono dentro al palazzo con la P maiuscola. Insomma, io non ce lo commonti come persona, lo stimo come persona, lo combatto per le sue posizioni politiche. Penso che tutte le scelte che pensano di affrontare la crisi riducendo i diritti sociali, facendo questa cura dimagrante all'uelfare, allo stato sociale, e producendo una specie di crisi anoressica della nostra organizzazione, della protezione dei cittadini più deboli, penso che sia sbagliato. Quindi non voglio minimamente avere un atteggiamento insultante, anzi ho molto rispetto per le persone che ci governano, ma sono radicalmente all'opposizione nei confronti delle scelte che operano.